Viabilità alternativa, sono nel tratto che da Pieve Santo Stefano va verso Le Balze, in località Pratieghi, presso i 35 km, tranne che nei primi 4 è completamente coperta di neve e ghiaccio. È questa la situazione documentata da un cittadino nella viabilità alternativa dopo la chiusura della E45 per il sequestro del viadotto Puleto. Qui siamo nella strada della Serra, fra la località Le Balze, comune di Verghereto, a quota 1000 sul livello del mare e Pratieghi. E questo di fatto è il tratto più difficile da percorrere in caso di neve, perché, ci confermano le aziende incaricate di tenere la strada pulita, tira molto vento e la neve, oltre a quella che cade, spesso viene trasportata sulla sede stradale anche dai campi, creando dei pericolosi cumuli. Sono gli stessi cittadini a raccomandare di non percorrerla se non strettamente necessario. Evitare assolutamente di mettersi questa strada se non strettamente necessario. Anche il passo di via Maggio lungo la Marricchiese è imbiancato e si presentava così questa mattina. In queste foto pubblicate sul gruppo Facebook E45.2 si vede il traffico bloccato per un mezzo intraversato. Questi scatti, invece pubblicati sempre sullo stesso gruppo Facebook e ripresi da un drone, raccontano la superstrada tutta innevata. Insomma, piove, anzi nevica sul bagnato e i disagi per studenti e pendolari diventano sempre più pesanti.